ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ragazzi allora questo video è per tutti gli amanti delle batterie customizzazione riparazione e anche per i miei ovviamente corsisti perché questo stesso video lo andrò a inserire nel faldone video del corso batteri maker e forse anche power wall maker allora che cos'è questo ragazzi questo è un analizzatore o tester digitale con display a colori che ha una grossissima potenzialità ragazzi perché riesce a testare pacchi batterie che vanno da 2 a 24 s basta andare a cablare la cavetteria e nel display lui ti indicherà il livello di voltaggio di ogni serie cosa molto ma molto interessante poi lo stesso modello lo stesso venditore sotto ti lascio il link e vende anche questo questo è un livellatore bilanciatore automatico per pacchi batterie questo oltre diciamo al testarli e darti i voltaggi sul display in maniera automatica andrà a fare il livellamento perfetto del pacco batterie perciò dato che abbiamo un range da 2 a 24 s potrei andare a diciamo bilanciare o testare sia pacchi batterie per esempio 24 volt 36 48 60 volt basta andare a cablare la cavetteria come vedi e metterla eventualmente nell'adattatore che loro ti danno ti danno una schedina metterla lì da lì collegare tutti i fili che escono dal pacco batterie e il gioco è fatto se non si è scritto al mio corso power wall maker o batteri maker io ti invito ad iscriverti accedi anche tu al webinar online e il trovi la piattaforma trovi tutti i link sotto in descrizione in questo momento in super promozione ti ricordo anche i fascicoli tecnici cartacei che sono disponibili su amazon sempre tutto sotto in descrizione e allora ragazzi questo come vedi a un aspetto diciamo professionale il prezzo è un tantino altino però per quanto riguarda il solo diciamo tester più caricatore bilanciatore se vuoi andare solo ad acquistare il display sfuso per vedere semplicemente il voltaggio invece con una trentina di euro potrei andarlo ad acquistare è molto piccolo sottile funziona con un jack normale presa alimentazione normale il tester invece caricatore ha un suo alimentatore dedicato ragazzi per chi vuole intraprendere questo lavoro questa passione questo è un attrezzatura molto ma molto importante perché anche un ottima precisione a una corrente di bilanciamento che arriva se non sbaglio a 3 ampere massimo perciò anche molto veloce niente ragazzi per questo video è tutto iscriviti al canale mi raccomando attiva la campanella così da ricevere le notifiche non perderti neanche un video ciao commenta sotto ciao 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 ciao